Eccoci qua, altra portata, un'altra portata 50 spiedini di gamber Guarda che sono 3 E quindi sono 150 E' impossibile 100 50 spiedini di ammassano polla io so Sì, è impossibile Facciamo 20 prima No, 50 Questi sono 150, sono 300 spiedini Vai Di gamberi, 50 spiedini di pollo che ci diamo un quarto 300 spiedini Abbiamo 4 spiedini di pollo 6 porzioni di gamberi Siamo noi sopravvissuti qua dentro Eccoci con l'ultima portata